Sono aumentati i soccorsi, 323 le persone, 93 le imbarcazioni raggiunte quest'estate in mare dalla Guardia Costiera rispetto alle 225 e alle 83 dello scorso anno. Crescono gli illeciti e le notizie di reato che hanno riguardato in particolare le spiagge del tutto abusive o quelle abusivamente allargate rispetto alle concessioni, la pesca e la sicurezza della navigazione. Ben tre comandanti di traghetto sono stati denunciati perché trasportavano oltre 100 passeggeri in più. Sono alcuni esempi delle attività dei 400 uomini impegnati anche quest'estate dal 23 giugno al 7 settembre nell'operazione Mare Sicuro che ha coinvolto le sette capitanerie di Porto Pugliesi con 60 imbarcazioni tra battelli veloci e unità d'altura. Obiettivo garantire la salvaguardia della vita umana in mare. Complici le condizioni meteo variabili quest'estate sono aumentate anche le richieste di soccorso al 1530, un numero utilizzato anche dagli immigrati a bordo dei barconi alla deriva. Oltre 20.000 controlli rispetto ai 15.000 dell'anno scorso e anche l'attività repressiva è stata superiore rispetto all'anno scorso. 1.024 verbali amministrativi, 115 notizie di reato, quindi un incremento di un 20-30% in più rispetto all'anno scorso. Un 1530 potenziato più diretto lo hanno usato in tanti? È vero anche gli immigrati? Tantissimi, sì. Adesso hanno anche il personale, i migranti regolari hanno imparato il 1530, ci chiamano anche su quei numeri, fortunatamente, perché poi dopo la chiamata arriva direttamente alle nostre sale operative.